Eccoci pronti per questa ultima parte di Calcio Punto Basket, parte naturalmente dedicata al basket e ai Krebs Rimini. Parlieremo della vittoria dei Krebs di domenica, una bella vittoria contro Piacenza, arrivata contro la seconda della classe, lo faremo con Alessandro Ceccoli. Buonasera. Ciao, buonasera a te e a tutti. Una vittoria che ci voleva? Una vittoria che ci voleva perché si arrivava da un momento di una serie aperta di sconfitte, una vittoria che sotto un certo punto di vista non me l'aspettavo neanche. Io sono sincero perché mi sembrava che si fosse preso una strada abbastanza negativa in quest'ultimo periodo, invece mi è piaciuta molto l'atteggiamento, al di là dei punti realizzati e delle prestazioni dei singoli, l'atteggiamento con il quale Rimini è andato avanti con forza. Piacenza è una squadra che ha un potenziale illimitato per questa categoria, secondo me è una squadra che può tranquillamente lottare per salire. ha recuperato, Rimini è riandata via, Piacenza di nuovo ha recuperato nella parte finale della partita e Rimini è sempre rimasto lì con la testa e l'ha portata a casa. Questo vuol dire applicazione, vuol dire lavoro, vuol dire attenzione, vuol dire soprattutto nei momenti chiave difesa, che è la cosa più importante da cui nasce tutto secondo me. Abbiamo questa sera con noi il play guardia dei Krebs, Luca Tognato. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Che purtroppo non ha potuto prendere parte della partita di domenica. Sfortunatamente mi sono infortunato alla caviglia lunedì scorso e l'ho guardata dagli spalti la partita. I miei compagni sono stati bravissimi perché hanno subito aggredito la partita, hanno cercato di portarsi avanti subito, sono stati aggressivi dal primo all'ultimo minuto e questo ci ha premiati alla fine. Che infortuni hai avuto? È una distorsione alla caviglia, fortunatamente parliamo di un paio di settimane. Spero già di rientrare per la partita di sabato, però staremo a vedere come procede la guarigione. Meglio aspettare insomma che si guarisca al meglio, no? Visto che c'è anche la pausa. Spero non mettere a rischio tutto il campionato, nel caso aspetteremo, però stiamo a vedere. Io spero di rientrare il più presto possibile. Hai fretta di scendere in campo? Ho voglia di giocare, poi in questo momento anche i miei compagni stanno vicino, per cui essere parte del gruppo e stare tutti insieme è fondamentale. Quindi ho sempre più voglia e fame di tornare in campo. Come l'hai vista la squadra domenica? Bene? In formissima, dal primo all'ultimo, tutti quanti hanno dato il loro approccio, sono stati concentrati dal primo all'ultimo e soprattutto ho visto una gran voglia di vincere, una gran voglia di prendersi una soddisfazione contro una squadra così forte e in forma anche come Piacenza. Bene, salutiamo anche Daniele Bacchi. Buonasera. Anche te, insomma, hai visto una partita bella, insomma. Beh, abbiamo visto qualche cosa che pensavamo di aver dimenticato totalmente già da molto tempo. Al di là dei singoli, che giustamente vanno esaltati, perché ci sono state delle prestazioni dei singoli che sono state veramente… Signorini ha fatto 27 punti, ma con delle medie di tiro veramente impressionanti. Bisogna riconoscere la coesione della squadra, perché se Signorini ha avuto quei palloni da mettere dentro in quel modo è perché tutti hanno girato come degli orologi svizzeri. La palla girava perfettamente, cosa che appunto in passato avevamo dimenticato e abbiamo visto veramente del bel gioco che ha chiaramente poi portato quei risultati anche dal punto di vista del bottino, tali da poter mettere in difficoltà un avversario così forte come Piacenza, che non ci ha certo preso sotto gamba, perché i ragazzi sono partiti fin dall'inizio andando in campo con la volontà e la decisione di fare bella figura. E questa è la chiave del loro successo ed è anche il loro limite, perché quando poi se lo dimenticano, addio, ritorniamo quelli delle figuracce da 53 punti che veramente fanno tanto dispiacere, perché loro non se lo meritano, però sono giovani, stanno crescendo, lo stanno dimostrando e sono sicuro che il gelone di ritorno riserverà dei risultati sicuramente più interessanti, perché riusciranno a fare sicuramente bene come hanno fatto domenica scorsa. Infatti Alessandro, di buon auspicio questa vittoria per il girone di ritorno, i crepi si hanno fatto vedere che possono giocarsela un po' anche con le squadre più quotate? Sì, direi proprio che in un momento dove il calendario non presenta un calendario facile appunto, una vittoria contro la seconda in classifica è un segnale importante, adesso ce ne sarà una prossima sfida fuori casa, che è una partita che tendenzialmente è più accessibile al di là che sia con Bernareggio, che è più accessibile rispetto a quella che hanno vinto domenica, poi ci sarà Padova, poi Vicenza, quindi un calendario non semplicissimo, però con questa determinazione, con questa voglia di sbattersi, di fare, di applicarsi e di lavorare, secondo me, l'importante è rimanere sempre con la testa nella partita, che è una cosa che magari delle volte, come diceva Daniele, i ragazzi si dimenticano, anche per una questione magari di inesperienza, se rimani con la testa nella partita, questo gruppo secondo me si può togliere delle belle soddisfazioni. Daniele, quindi secondo te, mi rilascio con lo che ha detto Alessandro, è più una questione di testa? Beh, in certi casi l'abbiamo notato che è una questione di testa, perché è successo che si perde il filo, l'avversaria scappa e poi dopo quando l'avversaria ti è scappata diventa tutto difficile, anche la cosa più banale, abbiamo ricordato più volte due sconfitte casalinghe che sono stati veramente due omaggi natalizi alle avversarie e anche qualche partita fuori, tenendo conto comunque che andare fuori casa è sempre molto complicato. La stessa Bernareggio che divide i punti con noi non è una passeggiata, non è una squadretta, è una squadra che comunque è stata capace di vincere con quelle che sono più deboli oppure lì-lì, quindi vuol dire che riescono a tenere la loro categoria in una fascia, sicuramente più bassa di quella dell'élite, però la tengono e quindi è una trasferta da prendere con le molle, esattamente come le altre e sarebbe veramente un bel regalino di Natale da portare a casa. Luca, secondo te cosa vi manca? Cosa vi è mancato pure in queste partite, in queste brutte sconfitte? Diciamo nelle partite che abbiamo perso l'approccio è stato quello che ha fatto la differenza, di solito nel primo quarto prendevamo qualche mazzata, un parziale importante, per cui poi anche con qualche prestazione che ci riportava lì-lì non bastava, perché appunto il distacco che ci era stato dato all'inizio era troppo importante. Quindi secondo me la mentalità giusta è come è stata quella di domenica, voglia di vincere e convinti dal primo all'ultimo minuto e il lavoro pagherà come domenica. Adesso sei fermo, ma come hai visto la stagione fino ad adesso, la tua personale? Io sono molto soddisfatto per quello che riguarda me stesso, riesco a esprimermi molto meglio quest'anno anche rispetto all'anno scorso, sono riuscito a guardarmi un po' di spazio. Secondo anno giusto che sei in questa squadra? Sì, sì. Mi sento molto più parte anche del gruppo, quindi i miei compagni mi cercano, io cerco loro e i risultati si vedono perché insomma anche in casa abbiamo fatto delle prestazioni importanti. Comunque sei giovane, vedi l'ambiente Krebs giusto per crescere come giocatore? Io spero proprio di sì, mi metto a disposizione della squadra e spero insomma di continuare a migliorare grazie anche al sostegno dello staff tecnico e insomma continuo a lavorare per migliorare. Come vedete Luca come giocatore? Un giocatore che ha delle potenzialità, dalla sua all'età che ha 19 anni, aversi lì a 19 anni sarebbe... Ha fisico perché poi è un giocatore molto fisico, infatti dico meglio che aspetti un attimino a recuperare... Esatto, è quello che volevo dire io, meglio che aspetti. Uno che salta come te, voglio dire, al primo appoggio sbagliato, rischi che ti rifi male subito, meglio che aspetti una settimana di più. È un giocatore che ha potenzialità, ha applicazione, lavora, fisico per cui... In questo gruppo di ragazzi, al di là di Luca, ce ne sono tanti che stanno dimostrando che con una guida come quella di Andrea Maghelli lo stanno seguendo senza perdersi più di tanto. È vero, nelle partite ci sono le pause, quello che vuoi, però vedo che è un gruppo che si sta formando e che sta dando dei buoni risultati dal punto di vista dell'applicazione e del lavoro. Sono arrivati anche un po' di risultati, però per me la cosa più importante, anche riferendomi alla partita di domenica, la potevi anche perdere con Piacenza quando finisci punto a punto, perché loro sono molto più forti di Rimini. Per me l'importante era che la squadra avesse dimostrato di non mollare mai, e avesse dimostrato durante l'arco della partita che Rimini va via, Piacenza recupera. Rimini torna a andare via, prende un vantaggio importante in doppia cifra, Piacenza recupera e Rimini ancora lì punto a punto e poi alla fine la vince. Potevi vincere o potevi perdere? Meglio vincere, chiaramente. Però solo il fatto di aver dimostrato che può stare alla pari con una squadra molto più forte dei Krebs è una cosa importante dal punto di vista dell'approccio alle prossime partite e mentale. Come vedete la prossima partita con Parnareggio? Allora, Parnareggio è una squadra, come dicevamo prima, molto giovane, gioca in casa, in un posto dove non siamo mai stati, quindi non sappiamo, è una palestra, è un palestetto, c'è un clima aggressivo, c'è un clima rilassato, non sappiamo nulla, sappiamo solo che ha una media di punti realizzati non altissima, più o meno come la nostra, prende meno rimbalzi di noi, non ha un gran tiro, quindi diciamo che se andiamo a mettere i valori sulla carta ce la possiamo giocare largamente, poi in realtà andiamo dentro a un bussolotto chiuso, buio, dal quale non sappiamo cosa può uscire e speriamo sinceramente che quello che loro hanno capito di essere in grado di fare sia ancora lì e ce l'abbiano in mano stretto e possano effettivamente portare a casa questa prima vittoria esterna che darebbe un fiato infinito perché siamo al dodicesimo posto e l'ultimo posto utile per finire bene la stagione è l'undicesimo, bisogna come minimo riuscire a prendere con l'unghia e con i denti quel posto lì. E basterebbe sorpassare Bernareggio. Tanto sorpassare Bernareggio non è male, poi dopo le altre, ce ne sono almeno altre tre che sono lì a soli due punti ancora in più. Diciamo che non è ancora tutto perduto, abbiamo ancora metà campionato, non è una discesa, ma le risorse per poter fare una bella figura ci sono ancora. La storia è ancora lunga Luca, quindi avete tempo per recuperare? Sì, manca ancora tutto il girone di ritorno, per cui per noi intanto è importante finire il girone d'andata bene sperando di andare a Bernareggio e fare un'ottima prestazione. E poi di iniziare il giro di Boa contro l'Eco, una squadra tosta, sicuramente la partita sarà completamente diversa dalla prima di campionato. Daniele la vede difficile. È molto complicata. Sono una bella squadra, però non ci facciamo spaventare da nessuno. Noi entriamo in campo e pensiamo a giocare la partita, poi sarà il campo a decidere chi vincerà e chi perderà. Cosa ti aspetta a livello personale in questo 2018? Io spero di migliorare il più possibile, di dare il mio contributo nel migliore dei modi alla squadra. Spero di raggiungere insieme ai miei compagni l'obiettivo di salvezza e se ci saranno dei play-off benvengano. Intanto cerchiamo, come ho detto, di finire bene il 2017 e poi una partita alla volta affronteremo il 2018. Daniele, vogliamo un po' anche parlare dei risultati delle altre squadre? Ma sì, ho fatto un escursus molto veloce a memoria. Comunque abbiamo la vittoria di Sant'Arcangelo, che è stata una vittoria anche abbastanza larga. A Vito-Sammarino. Ecco qua i risultati. Questi sono quelli della giornata di B, dove praticamente non ci sono stati dei risultati particolarmente strani. Diciamo che ci sta tutto. Invece, per quanto riguarda la Serie C, abbiamo appunto la vittoria di Sant'Arcangelo, che è stata molto importante. E poi abbiamo visto vincere appunto San Marino, che questa sera, mentre stiamo trasmettendo, si gioca un'altra grossa opportunità, perché gioca in casa. E poi in Serie D abbiamo di nuovo la vittoria di Bellaria e ha vinto anche Riccione. Quindi, diciamo che i maschi hanno fatto l'unplane. Purtroppo le ragazze di Happy Basket, invece, sono inciampate in casa ed è stato un peccato, perché era una partita abbastanza alla loro portata. Sono le uniche che hanno dovuto fare un passo indietro. Alessandro, abbiamo visto i risultati in sovraimpressione. C'è stato qualche risultato che ha sorpreso? No, direi che è tutto in linea con quelle che sono ormai le conformità del campionato. Quindi cose particolari non ce ne sono. La cosa che più mi ha stupito, se non fosse di Rimi non avessi visto la partita di ieri, avrei detto che Rimi l'ha vinto contro Piacenza. Questo è un risultato un po' particolare, perché non me lo sarei aspettato prima. È l'unico che un pochettino mi balza gli occhi rispetto a quello che potevo fare di previsione. Luca, quali sono gli avversari che ti hanno sorpreso di più, che ti hanno impressionato di più? Fino ad adesso, diciamo che sulla carta Piacenza e Cento sono state le due squadre, infatti la prima e la seconda nella classifica per un motivo. Ma la squadra che mi ha impressionato di più è stata Cento, perché ha due quintetti a disposizione, veramente di livello impressionante. Contro di noi, secondo me, non siamo stati noi a perdere la partita, ma l'hanno vinta loro, perché hanno veramente una squadra di livello alto. Speriamo di prenderci una rivincita nel girone di ritorno, però come squadra che mi ha impressionato di più sono loro. Domenica, tra l'altro, al palazzetto c'è stata una bella giornata, c'è stata la giornata bianco-rossa, ci sono stati i primi bambini che hanno giocato, poi ci sono state le vecchie glorie. C'è stato un po' di passaggio di qualche vecchia gloria, anche se non è proprio vecchissima, perché la maggior parte dei giocatori tendenzialmente erano poco più che quarantenni, oserei dire, la gran parte dei giocatori. Sì, però per chi come me fa parte di una fascia d'età che ormai è sui 50, vedere transitare un po' di queste persone, di questi uomini, di questi ragazzi che hanno fatto la storia, dalla pallacanestro a Rimini, che io seguo da quando sono un bambino, sono sempre dei bei momenti. All'interno di questo gruppo c'è un sacco di persone che conoscevo, quindi, che conosco, quindi voglio dire, una bella cosa. Oppure dei miei idoli da bambino, perché c'erano Cecchini, che io me lo ricordo quando ero un bambinetto, lo venivo a vedere, i Terenzi, i Vecchiato, i Zampolini, queste cose qua, sono delle belle cose da fare. Sì, festeggiamo nei 70 anni del basket, è sempre bello, no, Daniele, vedere questi, tra virgolette, vecchi giocatori. Sì, è stato comunque piacevole, perché è chiaro che si sono giocati in una partita teorica, andando ai due all'ora, però divertendosi e facendo comunque divertire, perché alla fine quello che c'è di particolare in una città come Rimini è che il rapporto fra il pubblico e i giocatori è un rapporto molto stretto, perché poi ci si trova anche al bar, ci si trova per strada, e quindi quel senso di amicizia e di condivisione è stato provato anche ieri pomeriggio ed è stata veramente una cosa molto bella, perché ha dato il senso di appartenenza, ha dato importanza, perché c'erano tutti, hanno giocato in pochi, perché purtroppo la maggioranza era largamente acciaccato e quindi persone di levatura straordinaria come per esempio Renzo Vecchiato che ha a disposizione titoli di altissimo livello e presenze nazionali infinite non si poteva assolutamente muovere, quindi è dovuto starsene a sedere. Però è stato veramente bello ritrovare tanti anni, praticamente abbiamo visto in campo dai 5 ai 60 anni tutto quello che Rimini è stato in grado di produrre in questi 70 anni, insomma, quindi è stato veramente un momento piacevole. E ti dico che secondo me German, Tasso e Romboli possono ancora giocare. Sì, fanno ancora una bella figura. Sì, sì, sì. Bene, siamo arrivati veramente in fondo in questo appuntamento, la sedicesima puntata di Calcio.Basket, saluto Alessandro Ceccoli, auguri. Grazie a tutti, auguri a tutti e un saluto a voi. Un saluto anche a Luca Tognato, auguri, ma anche auguri insomma per la pronta guarigione. Grazie mille. Aguri a te e Daniele Bacchi. Grazie, buonasera, tanti auguri a tutti. Come dicevo, siamo arrivati veramente in fondo. Grazie a Federico Laraceccoli. Grazie a tutti, buonasera. Vuoi fare un augurio ai nostri tre spettatori? Auguri di buon Natale a tutti e buon anno nuovo. Mi unisco anch'io agli auguri di Federica, vi faccio i migliori auguri di buon Natale e di felice anno nuovo dal sottoscritto e dalla redazione. Noi ci vediamo l'anno prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.